Primo dello stacco rimane molto lontano, sbaglia anche Missalina, sbaglia anche una ralda per la prossima iniziativa. Nel numero 4, numero 4, scolificato. All'Emanz PD, in modo che sto bello staccato perché all'Emanz è stilata da Elemanz e poi allarga. E allora All'Emanz PD, in vantaggio 5.000 sull'Epre Petral, poi un intervallo molto più consistente. In terza posizione segue Isidoro davanti a Gordon, ancora Nora Sprayplo, Nadine, Tommy, Lidenberg. Il quarto iniziale in 31, molto scarso, per All'Emanz PD, che ora chiude il 600 in 47 scarso. Siamo all'ingresso del passaggio di Fretilone, fila indiana, All'Emanz, scolificato, il ritmo, l'Epre Petral, che lo segue da vicino, poi più indietro. Isidoro su due di donne, Nora Spray, Nadine, Tommy, Lidenberg. L'800 iniziale in 2 scarso, che era un ritmo piuttosto impegnativo e selettivo, l'Emanz, perde un attimo contatto e l'Epre Petral, via il passaggio. Numero 2, Isidoro, scolificato. Intanto l'Emanz arriva al chilometro sul piede dell'1.17 e mezzo, la vettura di Isidoro, che lascia così in terza posizione Nora Sprayplo, davanti a Gueridon, Narin, Tommy, Lidenberg. Il andiamo svanata anche a 400 alla conclusione, dopo una frazione per la resta opposta, il passaggio dice 5. L'Emanz al comando, l'Epre si prova a rifarsi sotto, seguito da Nora Sprayplo, Gueridon, metà della piegata, con l'Emanz al comando, l'Epre si avvicina, molto minacciosa. Poi Nora Sprayplo, Gueridon, retta di arrivo, l'Epre Petral all'attacco, l'Emanz si sbaglia e l'Epre si ritrova in netto vantaggio. Viene a vincere l'Epre Petral per il secondo, Nora Sprayplo.